Musica Buondia a tutti ragazzi, qui dice Luquan94 e benvenuti in questo quinto episodio del Road to Cazzeggio Sempre su Black Ops 2 ovviamente Vediamo un po' se possiamo magari cambiare prima un po' la Kleaxe Tipo cambiare questa da Cazzotto 1.1 e metterne tipo un'altra Tipo boh non lo so Che però sia protetta comunque da roba del genere Quindi con maschera tattica e anti-squage Magari togliere questa e metterne un'altra tipo Vediamo un po' Questa la sto usando qui Potremmo tipo usare Vediamo un po' Il Vector, va che non l'ho quasi mai usato L'ho usato, vedete, relativamente poco Tanto che non c'è un accidente sbloccato per il Vector Ci mettiamo allora questo Vediamo un po' Mettiamoci anche il pistolero primario E mettiamo anche il caricatore rapido, va là Posso analizzare una perché Ah, con la mimetica No, se le mimetiche Ah, non mi piacciono Cioè, non è inutile che le prendo Cioè, non servono a niente Ok, vediamo un po' Ok, prima di giocare con la Cazzotto 1.1 Quindi Nucleo Stavolta facciamo uno che non ho quasi mai fatto Dominio Visto che lo vedete sempre nei canali dei grandi Non che io voglia dire che sia un grande Cioè, insomma Però visto che è una modalità che praticamente giocano tutti Tu devi stare zitto Dove sei Tachi Anche tu Tachi Anche tu Tachi Idiota What the hell LOL Come vedete il logo di Jinba Come vedete Ok, stiamo per partire Stiamo in pochissimi Serie di punti Sembra il solito Wav, Drone e Hellstorm Anche perché di oltre non riesco ad andare Bene, stiamo per partire Fra due Uno TEC Bene, si aggiunge anche un po' di gente nel frattempo Me gusta la ragosta Ma quanto costa Me gusta la ragosta Ma quanto costa Me gusta la ragosta Me gusta Sto Vedete, proviamola questa Oh, yeah, yeah Ok Vediamo di fare un risultato Alquanto decente Catturate gli obiettivi E lo rendiamo A E E E Ok Ehi, che succede? No, due tacche Perché ho così poche tacche? Perché mi scende la connessione? Perché? Ok, questa sarà una partita La cosa Oh sì, primo sangue Attenzione Iniziamo a fare le stragi Arriva la nuclear Nuclear Minimo Oh Oh sì Mamma, mamma, mamma Ammazzano, guarda Adesso mi aprono Guarda, guarda Eccala Manca ho detto Vabbè, almeno ci ho tentato Dai Ma io vado a prendere C Perché voglio farmi punteggioni Ah, dove sta? Vediamo un po' Prendiamo C Stai là, eh Bravo è nostro Stiamo E invece prendo C Tua sorella defunta Da una Da un trichaco in calore Uavi nemico Io c'ho un fantasma Ma me ne sbatto la ciolla Io continuo ad andare a prendere B È inutile che Io prendo C Abbiamo perso alfa Io prendo C Uavi di disturbo Uavi di disturbo Bene Continuo a girare Così magari Ok Tua madre defunta Ok Mamma mia Sono troppo potente questa partita Il vector Il vector spacca adesso Non l'ho mai provato Ma spacca Vediamo se qua c'è qualcuno Perdiamo B E vado a catturare A Allora Mamma mia No 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 Tanti scheggi Tanta che se Eh 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 Morto Tanto c'è tanto di scheggi Non mi avessi fatto una sega coppa No Brutto essere immondo Mi mancavo tanto così Allo av Chi sai che ti venga una cancra In alle mani Maledetto Devi cancrerarti Attenzione Uavi nemico in arrivo Però in effetti In questa mappa Posso anche provare Magari col cecchino Chi non va là No quella magari la farò In un altro episodio Apposito Ho conquistato io Ah nonostante sia arrivato dopo Ah Gesù Cos'è Ah la torretta Aspetta No continuiamo a usare il vector Minchia oh Ci stanno a Sfasciare il culo Se dovemo sbrigà Dopo andammo a PAB Ah Tua sorella Facetta nera Non finirò in galera Frittuce baldazzi E so Cristo Dio L'uavi nemico in arrivo L'uavi nemico in arrivo L'uavi nemico in arrivo L'uavi nemico mi ciuccia le palle Aspetta arrivo coppa Arrivo Sei tranzollo No 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 Non può essere così forte la torretta Porco due Allora io sto giocando fluido Però qui nella Nel computer Vedere la gestazione pvr Va molto lenta Cioè va lenta Va a scatti Cosa mi preoccupa un po' La madre di questo essere Dio santo Dammi l'elsat Porco troio Porco il tuo cane maledetto Chissà che venga stuprato a sangue Da un ornitorinco Eh porco due Allora fammi ricambiare la canzone Usiamo il cecchino adesso Va là Possiamo fare il pro gamer Oh E che cazzo Mica mi sembrava dei nostri Ha Mica mi sembrava dei nostri Mi è passato così a fianco Senza problemi Boh Continuiamo con l'elsat Dai che mi sembra Abbastanza buona adesso Come Come cosa Andiamo un po' Dali s qualcuno Da lì no Uh Il mio vector Il mio vector Lololol Il tempo è quasi scaduto Tanto siamo in vantaggio Prendiamo alfa Prendiamo alfa Arrivo Arrivo anche a prendere alfa Arrivo a prendere alfa Ok dai Se muoio adesso Porco due Ok mi tengo le ricompense Le uso dopo Tranquillo Lo uso dopo Riuscirà a fare a me L'ultima uccisione Ma anche no Ah Tua sorella No mi hanno fatto L'ultima morte Anzi che è diverso Va bene Adesso facciamo Questo round Col cecco Siamo pronti a cecchinare Le sorelle Ah no Non sono io l'ultima morte Strano Eppure Mi semblava Mi semblava Ok Pronti per il secondo round Usiamo il cecchino Come solo i pro-gamer Sanno fare Ok L'uav non si può ancora lanciare Oh si Se i combo si è ancora disattivate Per sette secondi Cinque Tre Uno Ok intanto ammazziamo sto tipo Che sta qui Eccolo Compari Bastardo Ho voluto fare una cosa pazza Vai vamos Chissà se va direttamente dalla torretta Sarebbe fantà Macchina da guerra alleata in uso Macchina da guerra alleata in uso Ok mi gusta Dovevamo distruggere la torretta col cecco Se lo potremmo fare Oh si Drone d'attacco Ho ucciso adesso il mio drone Boom Eh vabbè Aspettando sta Boom No Ma l'hai fregato Ok Proviamo dai Facciamo il pro-sniper Mamma mia Mamma mia Mamma mia Un pro Un pro-gamer Ah vaffanculo Poi penso che stavo godendo come un porcellino Andiamo a prendere A Proteggiamo A Aiutatemi a P-A Alfa Bravi Però sta laggando Sono a 2 Non so perché Vorrei saperlo Allora tanto adesso c'è gente che arriva da lì Quindi eccolo infatti Spunta Spunta Coglioso Aspettate Spunta Mil Mil ha saltato Tu esci d'acqua qua Ma lo sento Mil 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 Qua vicino Qua vicino Boom Mamma mia Mamma mia Un pro-gamer Sono un pro-gamer Ron mi fa una pippa Dove sei? Oh Gesù Non dito la romperò quello che ho detto Ok Dove siamo? Vabbè fammola ammazzare a me Fammi fare il pro-sniper Io sono un pro Della madonna Ehi Oh Tazzarda Sì mi rifugio qua sotto Eh sì vabbè Ho tirato due raffiche In pieno petto Poi ovviamente non crepa Perché c'è la pistolina che c'ha Oh oh Vabbè C'è la pistolina che c'ha I proiettili di carta pesta Kabum Mamma mia Questo si dice essere un pro-gamer Eccolo Dai 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 Grandi 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 Cazzo stai a fare? Sei un coglione Uav Va là Così faccio assi Sta manetta Prendiamo qua Perché adesso so che Uno uscirà da qui E infatti No 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 Come ho fatto a fare Hitmarker col DSR No Non col DSR Avrei capito se fosse stato un ballista Ma non un DSR Oh Miradì merda Oh Gesù Non l'ho neanche preso in pieno però No Tu assor Eccola Hitmarker Uh guardate la gente che ci sta qua Boom Tu assor Ta Però stiamo vincendo Dai sto facendo un pro-gamer allucinante 14-16 Mamma mia Ron mi fa una sega a due mani Così come OUN Eccetera eccetera Ovviamente sto a scherzare Raga Allora Grande Vissato Orbitale Là c'è qualcuno Non me lo inculo Gesù Mamma mia Eh va là Sapevo che arrivava qua Proviamo Va là Se becco qualcuno sono un dio Mamma mia Perdiamo A Perdiamo A Madonna mia No Gesù Riprendiamo C-A Opla Ok Dai tanto ho ancora il V-SAT Non mi Non può arrivare nessuno Vai Fammi fare Sti 200 punti Olè Oh Boom Drone Vai Ucciso lo stesso Mamma mia Oh però È stata una bella partita Non ci possiamo lamentare Io ho fatto il Pro Gamer Io ho fatto il Pro Gamer Col Super Cecchino Da Pro Perché sono potente Questo come ha fatto a vederlo A sapere già che c'era Sotto tutta quella Quella Nube Vabbè 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 E ok ragazzi Anche questo Quinto episodio Del Rrotto Cazz Del Rrotto Cazzeggio È finito Spero che vi sia piaciuto In tal caso Lasciate un bel Mi piace Se non vi è piaciuto Pazienza Non posso piacere a tutti Un saluto a tutti E Vamos vera Ciao